Disattivata, disattivata E' chiusa, è chiusa E' chiusa E' chiusa E' chiusa E' chiusa E' chiusa Lo, lo riaprono E' stata gente Sì, sì Prendo io Io ho tre pedibabesci che è il massimo E se hai cura bomba che è il massimo Cosa Ah, 10 non hanno mutato molto bene Sì, questo è vero Faccio un pittone Buon giro Siamo ancora dentro Andiamo qua Andiamo qua Andiamo qua Andiamo lassù Andiamo lassù Sì 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 Di cosa? Assalto quante ne hai? Finchia Vabbè Vabbè Te ne posso dar Io ne ho 100 in più Qua Qua abbiamo l'altezza? Guarda Guarda qui quanto legno Cosa c'è da fare? Cosa è? L'altezza è tutta Doi Cosa? Ciò Qui è così qua è stress io ho anche un po' di rinno grazie Gli unici che ci possono dar fastidio Sono quelli che sono là E quelli che sono là Se hanno il cecchino Però comunque Noi siamo nessun Sì vai vai che c'è Quanti materiali hai in totale Fatene fatene Macchina L'asta entrando verso borsi Ma mi sa che vuole ributtare No no qui no Cazzo non c'è nessuno Oh cazzo Andiamo qua Andiamo qua che tanto La prossima poi possiamo scendere Velocemente Alla prossima ... ... ... ... Dov'è? Eh, c'è quello del gatto Qui da qualche parte Ha corso tipo, però non so dov'è Vabbè adesso vuoi farti il fortino, ho fatto il fortino Ecco L'hai visto? Quella montagna Ah, ah, guarda lì, eh esatto Ah, guarda la sopra, la sopra La sotto uno Se riesci prova a schifare Craccato, mi hanno cecchionato In due Sono qua dietro, eh Eh, non proprio Ragazzi Eh, ma sono loro Sono loro che ci sparano, eh Eh, non sono io che li sto sparando E' qua io, guarda Me lo sembrano due geni, però non li pusherai Andrà a venire a questi, venire a questi, venire a questi Non sono scemi, eh Cioè, non sono stupido Cioè, nel senso Vabbè 28 bianco a uno Non sono bravissimi, eh Eh, no, intendo Ma andrà, dobbiamo Uno è quasi morto Lì Uno è... A terra uno, a terra, a terra Pusciamolo Andrà, dobbiamo pusciarlo Eh, ho capito Ma, eh Sta scappando col compagno in braccio Penso Eh, vabbè Lo rianima L'ho scappati? Eccoli là 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 E' morto è l'altro Cazzo Non fai uscire Ho le cure boom Appena usciamo Allora Boxati qua Boxati qua Sei qui dove sono io Entra entra Ok vieni Allora Guarda quelli Quelli la Devono cadere Abbiamo fatto una partita prima io e scese le coppie la vinta io da solo con 22 kill Ora abbiamo fatto una squadra l'ho vinta io e altri tre altri due Si sono occupato perché perché l'ha chiamato simone in merda Bambacula simona 26 blu Caccato è bianco E' bianco Andrei a sparare quel tizio lì Quello col rampino Che Rappi da morire Dove è bianco Ca' che questo è vinto ragazzi L'altro però non so dov'è Ha vinto ragazzi Ho la materia molto molto mamma mia quanto sono forte 2.1 c'è quella davanti leone davanti alla dietro e molto a andrea dice cosa vuol dire molto a 10 di vita 10 dita io se il coraggio fa piccola no 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 perché il caffè carangelo andrea hai sentito quando io parlo diciamo lo dice sempre quando vinciamo non ma quando parliamo non ha mai fatto niente non ho parlato in questa è questa che ho mai parlato io se vinciamo è quando io parlo vinciamo ma io ho visto che si è accesa online è perché c'è la scelta è acceso non ti invito più c'è anche cesare c'è che cesareo vai 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 no se ti chiamo durante la partita giuro che ti spacca la faccia no non rompere il caffè di gran rompa il caffè ma c'è entra veloce che ti invitiamo sei dentro si entro bella gioco con cecce mettiamo leader mettiamo leader cecce così la vinciamo easy bravo metti leader cesare almeno anche andrea può fare qualcosa se ti leo fg e leo fg e leo fg e sai che è gippe non sai che è